siamo due estranei lo dicono le tazze da te non mi stancherò mai di ripetertelo io nel parlarti potrò forse avere la forza di dimenticare o di voler dimenticare ciò che mi è stato insegnato con le parole ma non potrò mai dimenticare ciò che mi è stato insegnato con le cose quindi nell'ambito del linguaggio delle cose è un vero abisso che ci divide ossia uno dei più profondi salti di generazione che la storia ricordi ciò che le cose con loro linguaggio hanno insegnato a me è assolutamente diverso da ciò che le cose con loro linguaggio hanno insegnato a te non è cambiato però il linguaggio delle cose caro Gennariello quello che sono cambiate sono le cose stesse e sono cambiate in modo radicale tu mi dirai le cose sempre cambiano o munno cagna è vero il mondo ha eterni inesauribili cambiamenti ogni qualche millennio però succede la fine del mondo e allora il cambiamento è appunto totale ed è una fine del mondo che è accaduta tra me cinquantenne e te quindicenne la mia figura di pedagogo è dunque messa irrimedialmente in crisi non si può insegnare se nel tempo stesso non si apprende ora io non posso insegnare a te le cose che mi hanno educato e tu non puoi insegnare a me le cose che ti stanno educando cioè che stai vivendo non ce le possiamo insegnare a vicenda per la semplice ragione che la loro natura non si è limitata a cambiare alcune sue qualità è cambiata radicalmente nella sua totalità osserviamo un fenomeno che sembra irrilevante sono tornati da qualche tempo di moda gli oggetti degli anni 30 e 40 e io sto girando un film ambientato precisamente nel 44 sono quindi costretto ogni giorno con quello sguardo impietoso e elencatorio che il cinema richiede a osservare gli oggetti che filmo in questi giorni sto girando una scena in cui delle signorine borghesi prendono il tè ho osservato dunque tra gli altri oggetti delle tazzine da tè il mio scenografo Dante Ferretti aveva fatto le cose in grande aveva procurato per le scene un servizio molto prezioso erano tazzine color giallo uovo chiaro con delle macchie a rilievo bianche legate all'universo della Bauhaus e dei bunker esse erano angosciose non potevo guardarle senza provare una fitta al cuore seguita da un profondo malessere tuttavia quelle tazzine avevano in sé una misteriosa qualità condivisa dal resto, dalla mobilia, dai tappeti, dai vestiti e dai cappellini delle signorine dalle superlettili, dalle stesse carte da parati questa misteriosa qualità non dava però dolore non causava un violento regresso che poi la notte ho sognato in epoche anteriori e atroci dava anzi gioia la loro misteriosa qualità era quella dell'artigianato fino al 50, fino ai primi anni 60 è stato così le cose erano ancora fatte o confezionate da mani umane pazienti mani antiche di falegnami, di sarti, di tappezzieri, di magliolicari ed erano cose con una destinazione umana, cioè personale poi l'artigianato o il suo spirito è finito di colpo proprio mentre hai cominciato a vivere tu non c'è soluzione di continuità ormai ai miei occhi tra quelle tazzine e un vasetto il salto tra il mondo consumistico e il mondo paleoindustriale è ancora più profondo e totale che il salto tra il mondo paleoindustriale e il mondo pre-industriale quest'ultimo infatti è stato superato definitivamente abolito, distrutto, fino a oggi è stato esso a fornire i modelli umani e i valori alla borghesia paleoindustriale anche se essa li mistificava, li falsificava e li rendeva talvolta orrendi come è successo col fascismo e in genere con tutti i poteri clerico-fascisti mistificati, falsificati, resi orrendi a livello del potere e si restavano reali a livello del mondo dominato dal potere mondo che si era mantenuto in pratica nell'enorme maggioranza contadino e artigianale da quando sei nato tu quei modelli umani e quei valori antichi non sono serviti più al potere e perché? perché è cambiato quantitativamente il modo di produzione delle cose la verità che dobbiamo dirci è questa la nuova produzione delle cose cioè il cambiamento delle cose dà a te un insegnamento originario e profondo che io non posso comprendere anche perché non lo voglio e ciò implica un'estraneità tra noi due che non è solo quella che per secoli e millenni ha diviso i padri dai figli e come è mutato il linguaggio delle cose? voglio darti una serie di esempi che ti faranno capire un po' meglio cosa ho voluto dire con questo mio esordio pedagogico misterioso se io alla tua età e anche molto dopo camminavo per la periferia di una città Bologna, Roma, Napoli ciò che quella periferia mi diceva il suo latino era qui abitano i poveri e la vita che vi si svolge è povera ma i poveri sono operai e gli operai sono diversi da voi borghesi essi quindi vogliono un futuro diverso ma il futuro è lento a venire perciò il loro domani vissuto in questa periferia da loro e da voi contemplato assomiglia immensamente all'oggi è un oggi che si ripete i figli hanno assicurata un'esistenza simile a quella dei padri essi sono anzi destinati a ripetere a reincarnare i padri la rivoluzione ha la pigrizia del sole che splende sui prati spelacchiati sulle baracche e sui palazzoni scrostati tutto ciò non ferisce il passato non lacera i suoi valori e i suoi modelli l'urbanesimo è ancora contadino il mondo operaio è fisicamente contadino e la sua tradizione antropologica recente non è trasgressiva il paesaggio può contenere questa nuova forma di vita bidonville, casupo, le palazzoni perché il suo spirito è identico a quello dei villaggi, dei casolari e appunto la rivoluzione operaia ha questo spirito se invece tu ora cammini per una periferia sempre in suo latino tale periferia ti dirà qui non c'è più spirito popolare contadini e operai sono altrove anche se materialmente abitano ancora qui le bidonville grazie a dio certamente sono quasi sparite sono invece enormemente cresciuti i centri di palazzoni di un loro amalgama col mondo antico o contadino non si può parlare più le immondizie sono uno spaventoso corpo estraneo i fiumiciattoli e i canali sono terrificanti il diritto dei poveri a un'esistenza migliore ha una contropartita che ha finito col degradarla il futuro è imminente e apocalittico i figli sono strappati alla somiglianza coi padri e proiettati verso un domani che pur conservando i problemi e la miseria dell'oggi non può che esserne qualitativamente del tutto diverso di rivoluzione non se ne parla nemmeno e tantomeno quanto più se ne parla freneticamente una frenesia che i figli degli operai hanno imparato in un modo umiliante dai figli dei borghesi il distacco dal passato e la mancanza di rapporto sia pure ideale e poetico col futuro sono radicali io dunque dalla realtà fisica della periferia ero educato alla certezza a un amore profondo sicuro e insostituibile tu invece sei educato all'incertezza a una mancanza d'amore fatta di una falsa certezza crudele e impietosa la coscienza cristallizzata convenzionalizzata ciecamente aggressiva dei propri diritti mi sono dilungato sul linguaggio della realtà fisica di una periferia cittadina ma a discorsi analoghi ti farebbero i centri delle città o le campagne i centri delle città per tutta la vita hanno sempre assicurato il tuo pedagogo di una inalterabilità della tradizione umanistica e quindi di una qualità di vita sia borghese sia popolare fondamentalmente conservatrice che la eventuale rivoluzione operaia doveva rigenerare ma non cambiare a te invece i centri storici delle città parlano di un loro problema particolare riguardante la loro conservazione fisica la loro materiale sopravvivenza dall'incompatibilità fra la loro struttura e la qualità di vita di una massa borghese e operaia consumistica nasce un caos per cui sia la parola conservazione sia la parola rivoluzione non hanno più senso alcuno quanto alla campagna la differenza fra ciò che essa ha insegnato a me e ciò che essa sta insegnando a te è ancora più enorme per me essa è stata la certezza di una continuità con le origini del mondo umano e ha valorizzato fino a dar loro carattere quasi di rito ogni minimo gesto ogni parola inoltre essa rappresentava ai miei occhi lo spettacolo di un mondo perfetto per te al contrario la campagna parla di se stessa come di una spettrale e quasi paurosa sopravvivenza la sua funzione tecnicizzata industrializzata ti resta estranea a meno che tu non voglia occupartene professionalmente quanto al resto essa è un luogo esotico per atroci weekend e per non meno atroci villette da alternare con l'atroce appartamento in città tutto atroce per me si intende capirai pian piano nel corso di queste lezioni caro Gennariello che malgrado l'apparenza questi miei discorsi non sono affatto lodi del tempo passato che io in quanto presente non ho del resto mai amato sono discorsi diversi da tutto ciò che oggi da parte di un uomo della mia età si possa dire discorsi in cui conservazione e rivoluzione sono appunto parole che non hanno più senso come vedi sono dunque moderno anch'io mi accorgo tuttavia che anche questa mia pagina di esempi continua a mantenersi nel vago e nel generico perciò la prossima volta ti parlerò di un esempio concreto ti parlerò cioè della città di Bologna perché prendo come esempio del discorso non verbale proprio per questo fornito di una forza di persuasione che nessuna verbalità possiede la città di Bologna semplicemente perché Bologna non è una città tipica dell'Italia essa è un caso unico ma nel tempo stesso essa si presenta anche come uno specimen molto avanzato per un'eventuale e improbabile città italiana futura la sua anomalia è dovuta al fatto che essa si è sviluppata in questi ultimi anni secondo le norme ormai sacramentali dello sviluppo consumistico ma insieme essa è una città comunista dunque gli amministratori comunisti hanno dovuto affrontare i problemi che imponeva loro lo sviluppo capitalistico della città tu abiti a Napoli e tutto ciò ti riesce quasi incomprensibile naturalmente a Napoli il povero e caotico sviluppo consumistico è nelle mani di amministratori che gli sono solidali e così in quasi tutte le altre città italiane quindi per te gli amministratori regionali e provinciali sono semplicemente degli antichi corrotti, spregevoli vicerei il re è altrove e altrove sta cambiando radicalmente forme e modalità i vicerei lo intuiscono ma la loro torpida coscienza non ne sa nulla si comportano perfettamente invece per quanto riguarda la transizione sono ritardati d'aspetto e di mentalità molto avanzati nell'accettazione cinica del nuovo corso del potere cioè dei suoi nuovi modi di produzione ma veniamo al discorso riassunto della città di Bologna a te essa dice caro Gennariello ammira io sono una opulenta città del nord che lo sviluppo ha reso ancora più opulenta 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 al punto da sembrare una città francese o tedesca se tu dovessi emigrare qui la tua coscienza non potrebbe non essere ininterrottamente ammirata di questo fatto inoltre qui siamo comunisti e quindi puliti e onesti anche questo è un privilegio rispetto al mondo da cui tu provieni naturalmente se tu dovessi emigrare qui non potresti che votare comunista queste due grazie la ricchezza e l'amministrazione comunista creano un ottimismo democratico che non potrà non gettarti in uno stato di estatica prostrazione prima e poi renderti un catecumeno del resto neanche troppo fanatico a me la città di Bologna dice io mi confronto con la Bologna che tu hai lasciato una trentina d'anni fa so che mi ammiri e che mi consideri ancora la migliore città d'Italia seconda solo a Venezia anche per quanto riguarda la bellezza ma so anche che qualcosa di me ti delude o ti divide non è il rimpianto per quella città di trent'anni fa che ormai non c'è più pur conservando intatta la sua forma ciò che ti delude e ti divide è la constatazione di ciò che io sono nel presente è attraverso il tuo carattere e la tua cultura che qui infatti ti parlo la mia oggettiva realtà non avrebbe parole per te la prima e unica proposizione del mio silenzio sarebbe io ti sono estranea e incomprensibile se attraverso il tuo carattere e la tua cultura posso ancora parlarti ciò è merito della funzione conservatrice che qui ha avuto il partito comunista sei perciò tentato di stabilirti qui di lavorare qui di abitare magari nella casa di via Zamboni dove sei nato o in quella di via Nosadella dove hai passato l'adolescenza e scritto i tuoi primi versi ma lo stesso fenomeno cioè il fatto che io sia una terra separata un'isola che tende a trattenerti qui ti respinge quasi spaventato nei luoghi non privilegiati dalla mia felicità le straneità di un centro urbano e di una zona industriale praticamente estesa a tutta la campagna ormai presi nel giro che porta a un futuro sostanzialmente diverso da ogni passato che tu conosci naturalmente ti traumatizza vedere il sabato sera una barahonda che ricorda il quartiere latino col trionfo della coppia e la presenza del teppismo ti sconvolge il vantato gioco democratico come dice il tuo amico Scalia con assemblee, partecipazioni e autogestioni ti mette a disagio ma io so che ciò che più di ogni altra cosa ti rende ansioso e quasi angosciato per quanto riguarda il mio fenomeno è il fatto che io ponga problemi riguardanti lo sviluppo consumistico transnazionale a una giunta comunista regionale la quale nel risolvere quei problemi li accetta e accettando quei problemi nella pratica che è sempre una teoria ancora non detta e si accetta anche l'universo che ripone cioè l'universo della seconda e definitiva rivoluzione borghese ciò che una città italiana è diventata sia bene o sia male è qui accettato, assimilato, codificato nel momento in cui sono insieme una città sviluppata e una città comunista non solo sono una città dove non c'è alternativa ma sono una città dove addirittura non c'è alterità prefiguro cioè l'eventuale Italia del compromesso storico in cui nel migliore dei casi cioè nel caso di un effettivo potere amministrativo comunista la popolazione sarebbe tutta di piccoli borghesi essendo stati antropologicamente eliminati dalla borghesia gli operai ma su questo punto Gennariello ci fermeremo più a lungo quando ti parlerò dei tuoi coetanei in cui riscontreremo insieme all'imborghesimento psicologico anche fenomeni di regresso a quella specie di barbarie che è stata sempre considerata la cultura popolare e quindi fenomeni di differenziazione storicamente inedita dalla norma dopo il linguaggio pedagogico delle cose che tanta e così definitiva influenza ha avuto nel farti come sei passiamo al linguaggio pedagogico dei tuoi coetanei i quali in questo momento della tua vita 15 anni sono i tuoi più importanti educatori essi esautorano ai tuoi occhi sia la famiglia che la scuola riducono a ombre boccheggianti padri e maestri e non hanno affatto bisogno di un grande sforzo per ottenere questo risultato anzi non ne sono nemmeno coscienti è sufficiente per loro per distruggere il valore di ogni altra fonte educativa semplicemente esserci esserci così come sono essi hanno in mano un'arma potentissima l'intimidazione e il ricatto cosa questa antica come il mondo il conformismo degli adulti è tra i ragazzi già maturo, feroce, completo essi sanno raffinatamente come far soffrire i loro coetanei e lo fanno molto meglio degli adulti perché la loro volontà di far soffrire è gratuita è una violenza allo stato puro scoprono tale volontà come un diritto vi investono tutta la loro vitalità intatta e anche naturalmente la loro innocenza la loro pressione pedagogica su te non conosce né persuasione né comprensione né alcuna forma di pietà o di umanità solo nel momento in cui i tuoi compagni divengono amici scoprono forse persuasione, comprensione, pietà, umanità ma gli amici sono quattro o cinque al massimo gli altri sono lupi e adoperano te come cavia su cui sperimentare la loro violenza e nei cui confronti verificare la bontà del loro conformismo il loro conformismo è acquisito di peso dal mondo degli adulti la schema è identico ma tuttavia essi hanno sempre qualcosa di nuovo rispetto agli adulti essi cioè vivono esistenzialmente valori nuovi rispetto a quelli vissuti e codificati dagli adulti è in ciò che consiste la loro forza è attraverso quel qualcosa di nuovo che essi con il loro modo di essere e di comportarsi poiché si tratta di puro vissuto vanificano il conformismo pedagogico degli adulti e si impongono come i veri reciproci maestri la loro novità non detta e neanche pensata ma solo vissuta andando oltre il mondo degli adulti lo contesta anche quando lo accetta totalmente come accade nelle società repressive o addirittura fasciste tu sei schiacciato da tale novità ed è questa novità che tu temi di vivere imperfettamente mentre la vedi vissuta perfettamente dai tuoi compagni che costituisce il nucleo della tua ansia di apprendere essa non può esserti insegnata dagli adulti me compreso e quindi tu pur ascoltando gli adulti pur mettendoci tutta la buona volontà ad assimilare il sapere dei padri in realtà hai in cuore una sola assillante avidità quella di condividere con i tuoi compagni apprendendola da loro ossessivamente ogni giorno questa novità insomma i tuoi compagni sono i depositari e i portatori di quei valori che sono gli unici che ti interessano anche se essi non sono che leggerissime quasi impercettibile varianti dei valori dei padri ci sono dei momenti storici come quello che stiamo vivendo in cui però i ragazzi credono anche di sapere quali sono i nuovi valori che essi vivono oppure credono di sapere qual è il nuovo modo con cui essi vivono valori già istituiti in questi momenti la forza di intimidazione e di ricatto dei giovani coetanei è ancora più violenta e si aggiungono dentro lo schema del conformismo assimilato come ai tempi delle orde dall'ordine sociale paterno una nuova dose di conformismo quello della rivolta e dell'opposizione il caso di una società esplicitamente repressiva o fascista non è dunque il nostro noi viviamo almeno nominalmente un periodo di democrazia parlamentare di benessere e di tolleranza il più che vivono i ragazzi non è dunque un più fascista un più di dedizione all'autorità o almeno non è solo questo c'è anche un più di disobbedienza di anarchia e di dedizione alla rivoluzione operaia al tempo del fascismo quando ero adolescente io i miei compagni mi davano quotidianamente lezione non solo di come essere virili e volgari ma anche di come essere teppisticamente lealisti all'autorità fascista oggi a te i tuoi compagni impartiscono repressive lezioni non solo di attaccamento all'autorità non solo di attaccamento all'autorità nel suo aspetto eversivo fascista ma anche e certo soprattutto di spirito rivoluzionario comunista o extra parlamentare contemporaneamente tutti quanti ti danno ogni giorno una tremenda lezione di come comportarsi e pensare in una società consumistica come vedi siamo nella fossa dei serpenti i casi sono infiniti e sempre ambigui non è facile aiutarti nella tua lotta di complessato e di debole contro tutti gli altri forti in quanto singolarmente campioni della maggioranza tuttavia io cercherò appunto di aiutarti anche se la via che ti indicherò sarà più difficile naturalmente dovremo restare per molto tempo su questo capitolo che riguarda i ragazzi tuoi coetanei cercando di riordinare il groviglio in cui essi si affollano intorno a te e da cui tu tuttavia deduci un unico e ben chiaro modo di essere ti faccio un piccolo elenco dei tipi di tuoi coetanei che ti descriverò in questa sezione della nostra pedagogia è un elenco incompleto ma se sarà necessario lo aggiorneremo in qualsiasi momento ci sembri opportuno ti descriverò prima i ragazzi che si possono approssimativamente chiamare obbedienti il fatto che qualche volta si atteggino a contestatori ribelli, estremisti eccetera non ha alcuna importanza come non hanno importanza i loro capelli lunghi cristallizzati ormai nelle ridicole e un po' schifoge acconciature di un'iniziazione totalmente conformista poi ti descriverò i ragazzi che si possono approssimativamente chiamare disobbedienti cioè i poveri veri estremisti sopravvissuti i disadattati, i devianti e infine questi rarissimi i colti l'elenco dei tipi del primo gruppo da cui cominceremo è presse poco il seguente i destinati a essere morti gli sportivi i futuri executive i comunisti ortodossi i repressi non-nevrotici i teppisti i fascisti i cattolici attivisti e infine i puri medi naturalmente terrò sempre presenti nel descriverli le due varianti italiane ancora fondamentali i ragazzi borghesi e i ragazzi operai i ragazzi del nord e i ragazzi del sud è molto difficile descriverti i primi tipi del primo gruppo cioè i destinati a essere morti per te si tratta di una categoria normale che hai trovato nascendo già ben inserita nell'ordine sociale nel grande teatro dell'esistenza quindi non li hai realizzati ossia oggettivati staccati da te contemplati quanto a me essi mi appaiono invece come una categoria nuova impensatamente comparsa in Italia da una dozzina di anni quindi l'ho realizzata oggettivata eccetera mi è però difficile descriverla appunto perché nessuno l'ha mai fatto e io non ho dunque precedenti linguistici o meglio terminologici chi sono questi destinati a essere morti sono coloro che fino appunto a una dozzina o a una ventina d'anni fa in Italia e soprattutto nel sud e tra le classi povere sarebbero morti nella primissima infanzia in quel periodo che si chiama di mortalità infantile la scienza è intervenuta ma a proposito della medicina leggiti almeno le prime pagine del convivialità di Ivan Illich e li ha salvati dalla morte fisica essi sono dunque dei sopravvissuti e nella loro vita c'è qualcosa di artificiale di contronatura non so bene che dico delle cose terribili e anche apparentemente un po' reazionarie ma su questo punto ti ho raccomandato più volte caldamente di non meravigliarti e tantomeno scandalizzarti come faranno molti lettori delle nostre lezioni trovare qualcosa di artificiale o di contronatura in coloro che da bambini sono stati salvati dalla morte dalla tecnica medica avrebbe avuto qualcosa di atroce di reazionario in un mondo dove uno dei valori fondamentali fosse realmente la conservazione della specie e dove tale conservazione si concretasse appunto in una prevalenza delle nascite sulle morti ma in un universo come il nostro in cui tale valore fondamentale si va rovesciando bisogna evitare perché l'umanità si salvi l'eccessivo prevalere delle nascite sulle morti non hanno più senso le gratificazioni morali di un tempo quindi non scandalizzarti i figli che nascono oggi non sono più aprioristicamente benedetti il giudizio tra benedizione e maledizione è sospeso sono però decisamente maledetti coloro che nascono in più quali sono coloro che nascono in più non si può evidentemente dirlo questo è certo un bambino intuisce subito solo dopo pochi giorni di vita se la sua venuta al mondo è veramente desiderata o no se intuisce di non essere veramente desiderato o peggio se intuisce di essere indesiderato si ammala le nevrosi che causano le regressioni più terribili e incurabili sono dovute proprio a questo sentimento primo di non essere accolti nel mondo con amore ora oggettivamente nessun figlio è ormai più accolto nel mondo con l'amore di un tempo quando egli era appunto per definizione benedetto tutti sanno anche se non ne sono coscienti che la distruzione dell'umanità dipende dal suo aumento demografico se tutti i figli dunque sentono questa mancanza di benedizione alla loro nascita cosa che poi li rende così tristi e infelici per tutta l'infanzia e la giovinezza coloro che per di più sono stati strappati alla morte innocente dell'infanzia sentono con ancora maggiore violenza la loro colpevolezza di essere al mondo di pretendere di essere sfamati e curati c'è stata una certa illusione alcuni anni fa una delle tante stupide illusioni di alcuni anni fa che la razza umana appunto attraverso la scienza medica e il miglior nutrimento migliorasse che i ragazzi fossero più forti più alti eccetera breve illusione la nostra generazione è infinitamente più debole brutta triste pallida malata di tutte le precedenti generazioni che si ricordino le cause di ciò sono molte e cercherò di analizzarle tutte nel corso delle nostre lezioni una di queste cause è la presenza tra i giovani di coloro che avrebbero dovuto morire che sono molti in certi casi su de classi povere la percentuale è altissima tutti costoro o sono depressi o sono aggressivi ma sempre in modo oppenoso o sgradevole niente può cancellare l'ombra che una anormalità sconosciuta getta sulla loro vita se è giusta la mia ipotesi se nella categoria dei tuoi coetanei obbedienti trovino posto e per primi coloro che erano destinati a morire cioè coloro che la scienza medica ha salvato dalla mortalità infantile e sono quindi dei sopravvissuti qual è la loro funzione pedagogica nei tuoi riguardi che cosa ti insegnano col semplice loro essere e comportarsi la loro caratteristica prima ti ho detto è il sentimento inconscio che il loro essere venuti al mondo sia stato particolarmente indesiderato il sentimento inconscio di essere a carico e in più ciò non può che aumentare immensamente la loro ansia di normalità la loro adesione totale e senza riserve all'orda la loro volontà non solo di non apparire diversi ma nemmeno appena distinti dunque ciò che essi prima di tutto ti insegnano è vivere il conformismo aggressivamente cosa questa che come vedremo ti è insegnata da quasi tutte le categorie dei tuoi coetanei obbedienti e dunque la analizzeremo meglio andando avanti col nostro discorso vorrei invece soffermarmi su tre punti privilegiati del loro insegnamento pragmatico e dunque tanto facilmente assimilabile essi ti insegnano primo la rinuncia rinuncia resa assoluta abitudinaria quotidiana dalla mancanza di vitalità che in essi è un dato di fatto reale fisico ma che in altri come in te può essere una tentazione essi dovevano morire o meglio in altre circostanze sociali sarebbero di sicuro morti essi devono istintivamente ridurre al minimo lo sforzo per vivere il che in termini sociali significa appunto rinuncia è vero che come dice il mio amico di chia un ragazzetto che ricorda i proverbi dei vecchi il mondo è dei bravi e i coglioni se la godono è una delle più grandi verità che le mie orecchie abbiano mai ascoltato tuttavia io vecchio borghese razionalista e idealista cioè bravo continuo sempre a detestare con tutte le mie forze lo spirito di rinuncia che è poi ansia di integrazione e qualunquismo non temere di essere ridicolo non rinunciare a niente lascia che i coglioni si godano il mondo e invidia pure come me struggentemente per tutta la vita la loro felicità la seconda cosa che i destinati a morire ti insegnano è una certa obbligatoria tendenza all'infelicità tutti i giovani di oggi tuoi coetanei hanno l'imperdonabile colpa di essere infelici a quanto pare non ci sono più coglioni se non a Napoli o a Chia tutti sono bravi e dunque tutti hanno la loro brava faccia infelice essere bravi è il primo comandamento del potere dei consumi nel cui universo mentale e di comportamento tu povero Gennariello sei nato bravi cioè per essere felici ed onismo del consumatore il risultato è che la felicità è tutta completamente falsa mentre si diffonde sempre di più una immediata infelicità sappi invece dice Gennariello che contrariamente al proverbio sublime di Chia c'è anche una felicità dei bravi il proverbio di Chia dice infatti che il mondo è dei bravi alludendo decisamente al possesso al potere ma allora va aggiunto che oltre al possesso del mondo da parte dei padroni c'è anche un possesso del mondo da parte degli intellettuali e questo è un possesso reale come è del resto quello dei coglioni si tratta soltanto di un diverso piano culturale al possesso culturale del mondo che dà felicità non lasciarti tentare dai campioni dell'infelicità della mutria cretina della serietà ignorante sii allegro la terza cosa che ti viene insegnata dai destinati a morire è la retorica della bruttezza mi spiego da alcuni anni i giovani i ragazzi fanno di tutto per apparire brutti si conciano in modo orribile finché non sono del tutto mascherati o deturpati non sono contenti si vergognano dei loro eventuali ricci del roseo bruno splendore delle loro gote si vergognano della luce dei loro occhi dovuta appunto al candore della giovinezza si vergognano della bellezza del loro corpo chi trionfa in tutta questa follia sono appunto i brutti che sono divenuti i campioni della moda e del comportamento i destinati a essere morti non hanno certo gioventù splendenti ed ecco che essi ti insegnano a non splendere e tu splendi invece Gennariello ho imperversato un po' contro questi destinati a essere morti col rischio di apparire un po' vile e razzista di creare cioè una categoria di persone da proporre alla condanna no tra i destinati a essere morti ci sono esseri adorabili per lo meno come te così vistosamente destinato alla vita se ho polimizzato con particolare violenza contro gli insegnamenti che ti impartiscono e destinati a essere morti è perché ho preso questa categoria a simbolo della media media che ti insegna appunto queste stesse cose e senza quel tanto di disperato che le corregge le giustifica le rende umane ricordo sempre con intimo quasi struggente piacere le mattinate di scuola in cui i miei professori invece di fare lezione si lasciavano prendere da non so che pigrizia e libertà e ci parlavano di altre cose erano almeno nel ricordo mattinate come queste di maggio o giugno in cui l'anno scolastico stava per finire c'era questo sole stagnante immenso e mite il sole delle poesie estive di Sandro Penna ebbene Gennariello oggi è appunto una di quelle mattinate in cui i professori non hanno voglia di fare lezione e parlano d'altro oltretutto siamo sotto le elezioni la cosa è più che naturale il discorso da fare è molto aspro anche se in qualità di pedagogo non posso che essere pacato ecco fino a una decina di anni fa sotto le elezioni piangevano le madonne oggi vengono lapiti degli alti magistrati il problema è il seguente che nesso c'è fra questi due fenomeni io credo che ci sia prima di tutto un nesso di opposizione e di incommensurabilità un universo in cui in qualche modo cantino le lacrime della statua di una madonna è opposto e incommensurabile a un universo in cui tali lacrime non continuo assolutamente più si è avuta in mezzo appunto la fine di un universo milioni e milioni di contadini e anche di operai dal sud del nord che certamente da un'epoca molto più lunga che i duemila anni del cattolicesimo si conservavano uguali a se stessi sono stati distrutti la loro qualità di vita è radicalmente cambiata da una parte sono emigrati in massa in paesi borghesi dall'altra sono stati raggiunti dalla civiltà borghese la loro natura è stata abrogata per volontà dei produttori di merce ma di ciò ti ho già parlato altre volte e spesso ancora te ne parlerò resta da esaminare il nesso che almeno meccanicamente unisce i pianti delle madonne ai rapimenti dei magistrati tale nesso è organizzativo e pragmatico e come tale è enigmatico come veniva progettato e realizzato infatti il pianto di una madonna un parroco veniva a roma prendeva accordi con qualche alta personalità vaticana otteneva il dovuto viatico eccetera eccetera oppure il mandante di qualche grossa autorità democristiana il fanfani all'andreotti o lo scelba di quegli anni scendevano in qualche paese scelto contattavano il suo parroco gli davano le dovute disposizioni eccetera oppure questo parroco faceva tutto da sé interpretando i taciti desideri di coloro che stavano in alto e avevano bisogno di essere rieletti possibilmente con la maggioranza assoluta fatto sta che l'imbroglio riusciva sempre perfettamente e mai nessuno è stato smascherato in questo i rapimenti dai magistrati e i pianti delle madonne si assomigliano alla perfezione anzi sono in sostanza la stessa cosa certamente poi l'ingranaggio della prima organizzazione il pianto della madonna per quanto per esempio in sicilia la mafia non dovesse essere estranea era molto più semplice dell'ingranaggio della seconda organizzazione il rapimento di un magistrato per quest'ultimo occorre un apparato criminale immensamente più raffinato e inoltre occorre almeno l'intervento della CIA fino a poco tempo fa attraverso il SID e ora inoltre mentre un tempo bastava indurre gli animi a temere ingenuamente il giudizio divino le lacrime della madonna erano anticomuniste ora occorre creare negli animi due tensioni una anticomunista e una antifascista sotto queste elezioni a quanto pare siamo in una fase di tensione antifascista però però mentre per le stragi di Brescia e di Bologna si può decisamente parlare di una montatura antifascista organizzata dai democristiani non più ora molto cattolici al potere stavolta a proposito dei NAP non si può decisamente parlare o meglio non si vuol decisamente far parlare di fascisti a quanto pare siamo a una nuova demoniaca progettazione prendere due piccioni con una fava lasciare cioè sospeso se si tratti di rossi o di neri creando così nel tempo stesso una tensione anticomunista e una tensione antifascista certo molto dipende dalla figura del magistrato rapito intanto va detto che è strana la somiglianza tra Sossi e Di Gennaro almeno quanto a cartello segnaletico e ai dati esterni a ogni modo mentre non conosco Sossi di persona conosco invece Di Gennaro benissimo egli è stato pubblico ministero in un processo contro il mio film La Ricotta accusato fascisticamente di vilipendio della religione ora nessuna persona è più reazionaria nel mio ricordo di questo Di Gennaro la sua arringa contro il mio film è stata controriformistica e sanfedista a tal punto che come ti possono testimoniare i numerosi intellettuali e giornalisti che l'hanno ascoltata ha rasentato il gran guignolesco e il ridicolo per non dire ovviamente il volgare è stata il capolavoro orale del clerico fascismo degli anni 50 il processo si svolgeva nel 63 cioè quanto a livello culturale dello stesso clerico fascismo che organizzava i pianti delle madonne ora c'è da chiedersi che rapporto politico c'è tra quest'uomo della vecchia destra reazionario e duro ma anche ambiguo visto che il processo alla ricotta era un atto manifestamente persecutorio che vedeva implicato il Vaticano e l'intera ufficialità del potere democristiano e coloro che l'hanno rapito perché è stato scelto lui che logica lega il rapito ai rapitori non saprò mai rispondere a queste domande se non su un terreno puramente ideale ed è ciò che cercherò di fare continuando finché sarà necessario questa nostra digressione